Musica Devo proprio guardare l'inizio Nome? Pensando Letizia Cognome? Costi Scanga Venta? Venti Venti anni Segno zodiacale Pianza Scorpione Da quanti anni fai tu Irmi? Questo è il 17esimo Ho smesso per tre anni, però il tutto saranno 13 Datti un voto da 1 a 6 Fatemi, 4 Sei la maggioreta? No, no, mi metto io La diversa Nome tecnico del bastone? Bastone Mazza Il loro confidenziale? Arturo Sei single? Sì No Il tuo attore preferito? Giulia Roberts Gianni Dere Il tuo migliore risultato sportivo? Seconda l'International Cup Anni fa con il twirling sempre il team siamo arrivati qui Se tu fossi un frutto, che frutto saresti? Pesca Sei scritta Facebook? Sì Tira fuori la lingua Lo sapevo A che tal come bacio? Con la lingua? 14 Il tuo peso? Eh, non si dice Sei permalosa? Un po' Un uomo che ti fa impazzire? Tra un uomo Un uomo? Di un ricerdo Fai un urlo? Aaaaaah! Aaaaaah! Provina l'attrice Fai la faccia ingenua Cazzata Curiosa La sedutrice Rivelaci un segreto Non ho segreti Ma La tua migliore specialità è il twirling? Albuo Una specialità artistica Non saprei Iulè? E in cucina? Posticci Sono un disastro A che età la prima ciucca? 16 17 14 3 aggettivi per definire l'altra Simpatica Permalosa Schiava Simpatica Sincera E' una vera vita Ti piace che iniziano sempre? Puoi mentire Sì È carino Molto simpatica Lancia un saluto a chi ti sta guardando Ciao Ciao È finito Sì va bene Grazie a tutti.